Il sindaco di Giulianova, Francesco Mastromauro, ha invitato l'Ordine degli Architetti a lavorare di più per spingere i comuni a procedere alle verifiche di vulnerabilità. Cosa risponde Di Marcello? Beh, io devo ringraziare il sindaco perché ha messo in luce una cosa che non avevo considerato, cioè che il nostro lavoro negli ultimi anni purtroppo è poco recepito all'esterno. perché sia il precedente, la precedente consigliatura dell'Ordine degli Architetti, sia io appena insediato abbiamo posto l'accento sulla necessità delle vulnerabilità sismiche non solo per gli edifici scolastici ma anche come prevede la legge per gli ospedali, per gli ospizi, per le altre strutture strategiche, gli uffici tecnici comunali o provinciali. Questa cosa è andata avanti con continue sollecitazioni alle amministrazioni, con tavoli di lavoro, anche con le associazioni dei genitori. Ricordo le linee guida fatte con Teramo Children, i tavoli di lavoro con l'associazione ASSAI e con la cittadinanza attiva. Quindi il sindaco ha ragione che bisogna sollecitare e mantenere l'attenzione alta. Noi lo facciamo, evidentemente dobbiamo alzare un pochettino più la voce e pretendere. Ci sarebbero dei comuni tipo Roseto degli Abruzzi, secondo Mastromauro, che non avrebbero proceduto in tal senso? Noi come Ordine siamo un ente pubblico che non abbiamo il compito di obbligare le amministrazioni. Certo, di spronarle sì, non possiamo entrare nel merito, possiamo alzare i toni anche dell'allarme perché purtroppo non ci si rende conto che il terremoto non è un problema, il terremoto è una condizione. Cioè noi siamo in un'area all'alto rischio sismico e sappiamo che un altro sismo accadrà. Ci auguriamo che accadrà il più tardi possibile, ma potrebbe accadere domani. Quindi dobbiamo essere pronti. È vero che la norma ha delle lacune, cioè una volta stabilita la vulnerabilità degli edifici, ahimè sulla costa è quasi sempre alta perché si costruiva una volta secondo le norme che però non prevedevano la sismicità dei territori. Bisogna poi dare i fondi per far sì che queste scuole, questi edifici vengono adeguati o meglio ancora ricostruiti con tutte le tecniche necessarie. Quindi noi rilanciamo l'appello come da anni a questa parte, continuiamo a rilanciarlo sempre di più. C'è un problema grande, c'è un problema grande a Teno, c'è un problema grande a Giulianova perché purtroppo le scuole vengono chiuse e anche quelle che rimangono, seppure adeguate sismicamente non sono più idonee per spazi, per strutture didattiche, per collocazione, per l'esigenza degli alunni e degli studenti. Quindi l'appello è più che ai sindaci che hanno il cerino in mano purtroppo, è al governo che speriamo che si formi più presto possibile, ma ai nostri parlamentari, a cui scriveremo di nuovo, chiedendo che rappresentando i territori ai quali sono stati votati, portino risorse sui nostri territori per far sì che poi i famosi progetti e i famosi concorsi di progettazione si possano fare.